La voce della coscienza. 2 dicembre 1977. Figli, a me tanto cari, sia pace a voi. Ecco, io sono disponibile per rispondere alle vostre domande e, siccome so che per la maggior parte vi trovate in posti di lavoro, in cui dovete subire un cattivo comportamento da parte di colleghi di lavoro o subalterni, mi premuro di indicarvi una via sicura, come una via maestra, seguendo la quale non sarà facile sbagliare. Vi è una voce nella vostra vita, che è come l'eco della voce di Dio. È la voce della coscienza, che, per quanto molti si studino di soffocarla, è sempre viva e parlante. Non avete che da ascoltare questa voce e seguirne gli impulsi per avere la certezza di essere nella giusta strada. Quando il dubbio o l'incertezza vi danno inquietudine, quando vorreste adattarvi al comportamento degli altri per non estragnarvi dall'usanza comune, e quando vi sembra doveroso agire diversamente, per testimoniare con la vostra coerenza la fede che professate, e non ne sentite il coraggio. Interrogate la vostra coscienza. Essa vi dirà ciò che è bene e ciò che è male, vi dirà ciò che è bene e ciò che è meglio, e dovrete tirare dritto per quella strada che vi viene indicata, come una falsariga e che calca le orme stesse del mio Figlio Divino. Sappiate mantenere retta la vostra coscienza confrontandola, attraverso un esame attento e sollecito, con il dettame del Vangelo. Una coscienza retta è garanzia di vita onesta e di vero cristianesimo. Mi potreste obiettare che, in un mondo così errato come il presente, non è possibile agire con coscienza senza attirarsi le ire, senza suscitare contrasti e divergenze coi vostri simili. Ed io sono pienamente d'accordo, non solo con voi, ma anche con Gesù, che disse, io non sono venuto a portare la pace, ma la guerra. Sarebbe veramente un brutto giorno per voi quello in cui il mondo tutto vi dovesse applaudire. Vi ho detto molte volte che dovete vivere nel mondo ma non essere del mondo, e vi ripeto quella beatitudine che suona come un contrasto, ma che è una realtà. Beati voi, quando vi perseguiteranno e vi insulteranno e, mentendo, diranno di voi ogni male per causa mia, rallegratevi ed esultate. Voglio, però, darvi ancora un suggerimento. Agire secondo coscienza vuol dire avere sempre una retta intenzione. Con questa rettitudine non potete limitare il vostro bene. Ogni azione diventa come quel rivoletto d'acqua che va a formare il fiume, e che bagna le terre così da renderle fertili. Voi date, e comunicate ai vostri simili quel bene che fate, e i desideri di bene diventano amore, carità, quel sole benefico che rende feconda la vostra vita. La vita corre verso la meta e senza interruzione continua il suo cammino. I diversi rivoli diventano fiumi di bene, che Dio accoglie nell'oceano infinito del suo amore e di cui dà una ricompensa. Sì, figli, e credetemi, questa ricompensa non è soltanto riservata all'ultimo giorno. Quando Gesù parlò del cento per uno non si riferiva soltanto alla vita eterna, ma, lo disse chiaro, anche a questa vita. Sì, vi è un benessere ed una ricchezza anche materiale, guadagnata col proprio lavoro compiuto coscienziosamente, che il Signore dona ai Suoi figli, ma, se tenete conto della pace che l'uomo onesto possiede quando agisce in conformità alla propria coscienza, voi mi direte che vale la pena di conquistarla. Figli, un ultimo suggerimento. Il mondo si dibatte e non ha tranquillità perché non sa amare, e l'egoismo e l'odio non sono i fattori che possono portare la pace. Io vi ripeto per l'ennesima volta. Sappiate amare. Nell'amore, tradotto in opera nella carità che si tramuta in comprensione, in dolcezza, in sorriso, in sacrificio, si realizza il regno di Dio sulla terra. Amate tutti e, dimenticando il male che ricevete, date a tutti il meglio di voi stessi. Ed ora vi benedico tutti ad uno ad uno. Arrivederci, figli, e buonanotte.